Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie! Romina Power è una delle cantanti più amate della storia della musica italiana. Romina e il suo ex marito, il cantautore pugliese Albano Carrisi, hanno scritto pagine indimenticabile nel panorama della musica italiana. Da sempre innamorati della loro storia, la loro relazione a lungo termine e la loro voce. Ancora oggi, quando si esibiscono insieme riescono a creare un'atmosfera magica sul palco, forse d'altri tempi, il loro canto affascina il pubblico di grandi e piccini. Romina Power ha dichiarato di essere molto colpita per la prematura morte della diciottenne Camilla Capina, dopo la somministrazione di una dose di AstraZeneca. L'ex moglie di Albano, Carrisi, ha sottolineato che nessuno dovrebbe morire a quell'età e come il sorriso della giovane fosse rivolto, in maniera speranzosa, verso un futuro felice e non impietoso e tragico come questo. La dipartita della giovane Capena è stata al centro di numerosi dibattiti, essendo attuale il tema dei vaccini e dei potenziali effetti avversi ad essi legati. Ovviamente, in ogni caso, dovrà sempre dimostrarsi una correlazione tra la somministrazione del vaccino e le probabili conseguenze. Romina Power ha scritto per la ragazza un accorato messaggio di cordoglio sui social, suscitando commozione in chi la segue da tempo con affetto. La cantante ha sempre dimostrato di avere un animo sensibile, al di là dell'innegabile talento che l'ha sempre contraddistinta.